Antonio, prima presentazione per te di una Ferrari in divisa Ferrari, quali sono le tue emozioni? Prima di tutto un'emozione grandissima, essere stato lì appunto in una presentazione di un marchio così importante a fianco a due campioni del mondo, con il team più importante al mondo, quindi l'ho sempre guardata da casa ed essere qui oggi è davvero emozionante. Quest'anno sarò il terzo pilota, darò il massimo per tutto e speriamo, la macchina sembra bellissima, quindi speriamo vada anche forte, aspettando i primi test di Barcellona.